Ciao, creatura, io sono Vecca di Splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai e S.M.A. E questa sera, visto che mi è piaciuto tanto il video di sfogliamo il valentino del Lidl, che mi era stato richiesto tanto e quindi ho detto vabbè dai, sono andata a fare la spesa, ho trovato questo, dal lunedì 28.10 al 3.11 sicuramente uscirà dopo questa data, ma non importa perché ho visto che ci sono delle novità, Sì, ok, siamo a novembre, ci sono già le cose di Natale, ebbene sì, ormai penso che dovremmo abituarci a questa cosa, perché già c'erano prima di Halloween, quindi vabbè, ho visto gente aprire i calendari dell'avvento a settembre, quindi va bene così, non dobbiamo arrabbiarci, dobbiamo purtroppo solo accettare la cosa, e vabbè, c'è chi preferisce mantenere le tradizioni e chi vuole bruciare le tappe, ognuno fa quello che vuole, insomma, e qua ho trovato appunto questo valentino deluxe, che a me verrebbe da chiamare deluxe, ma nella pubblicità ho proprio un tv dice deluxe, quindi accetto questa pronuncia, la magia sta per arrivare, ho visto anche delle cose che spero di trovare, che vorrei acquistare, come al solito ti chiedo scusa per l'inquadratura, potrebbe essere storta o anche no, non lo so perché non vedo nulla da qua, ma non importa, so che tu mi accetterai così come sono, qui abbiamo il salmone affumicato norvegese a 3,19€, la pizza con ficchi e il corgonzola top a 2,29€, gli gnocchi con succhi amaretto a 1,29€, il patè di funghi, porcini e melanzane a 1,49€, tra l'altro a me questo volantino sembra più piccolo degli altri e è fatto anche come un libriccino, non lo so, forse è una mia impressione, io me li ricordavo più grandi, però potrei sbagliarmi, in esclusiva da Lidl i prodotti deluxe approvati da Gambero Rosso, questo oggi ogni anno, vuoi mi far ridere? Allora, funghi, porcini e fette 3,79€, culatello 2,99€, battuto di olive leggino 1,79€, patè di carciofi 1,69€, peperoncini immaginati in olio extravergine d'oliva 1,99€, questo mi piacerebbe acquistarlo se lo trovo, salse, senapate, di pere, ricchi e clementine 1,99€, pesto al tonno con mandorle e pecorino 1,99€, anche questo fa voglia, a me poi non so, lunette, gli scampi e i camperi o girassoli e il pesce spada 1,79€, non mi ricordo se avevano acquistato questi l'anno scorso, credo di sì, sicuramente qualcosa gli scampi, ma non aveva molto sapore, però per 1,79€ non possiamo pretendere chissà cosa, pensano, tagliolini al tartufo con uova di allevamento a terra 1,79€, 1,79€, lunette al nero di seppia con ripieno al salmone 1,79€, su con gli scampi 2,99€, su con l'astici, questo l'avevo assaggiato 1,69€, non possiamo pretendere chissà cosa effettivamente per il prezzo pagato, che ha pesante atlantiche, 9,99€, soufflé al cioccolato, con cuore al cioccolato bianco, 2,49€, questo mi fa voglia, frutta ricoperta di cioccolato fondente extra, 1,39€, ci sono le amarene, i cubetti di zenzero, l'uvetta e i cubetti di arancia, queste qua un po' meno, un po' meno voglia, praline al rum, con cioccolato extra fondente, 1,99€, eh lo so mi dispiace per chi guarda questi video e poi le viene fame, e magari è in dieta, chiedo scusa, finferli interi o misto funghi, 1,69€, tortelloni ricotte e spinaci o ai funghi, 1,29€, tortelloni con fondine e spinaci o sacchettini al tartufo, 1,29€, gnocchi ripieni, con radicchio e scamorza o al tartufo, c'è sempre il tartufo, periodo natalizio, ti schiaffano il tartufo dappertutto, che a me non piace però, 1,99€, però di solito è così a Lidl, crocchette al formaggio, buona voglia, 2,69€, poi c'è, c'è le mazzancole tropicali con salsa, 5,99€, che c'è una tiktoker che fa, spesso, quando c'è il periodo, che si trova a Lidl, compra questi, questi fossoi, diciamo, di mazzancole, poi se le mangio tutte, nel video, che è tipo un video mukbang, ASMR, e se le mangio tutti, però di solito non so, prende, qui vedo delle salse diverse, qui c'è sweet chili, e qui c'è una salsa all'aglio, e lei dopo aggiunge anche tante altre salse, perché ha tipo l'ossessione per le salse, e ne ha tantissime a casa, e quindi dopo la vedi che puccia, queste mazzancolle, tutte le salsine, fa venire una fame fotonica, però, vabbè, una volta ogni tanto ci stanno, è molto sano, ma i suoi, come sappiamo bene, i mukbang, che piacciono di più, sono quelli dove si mangia un po' cose particolari, e non la classica pasta al pomodoro, anche se io, guarderei comunque, se poi hanno qualcosa di interessante da dire, poi, formaggio di capra, 2 euro e 49, lo dà come novità, con pepe o miele e mandorle, pesto con rucola, con funghi e tartufo, o con tonnetto striato e verdure, 1 euro e 79, 1 euro e 79, vabbè, patete di olivetta e ciascchia, 1 euro e 89, e banco frigo, mette la salsa al tartufo, giustamente a 2 euro e 79, che poi, 2 euro e 79, quanto di vero tartufo ci sarà all'interno? Non c'è dato sapere, ravioli, ricotta e pistacchio, 1 euro e 49, anche il pistacchio è ben gettonato, nel periodo natalizio, tartufo al cuore di pistacchio, appunto, con granella di meringhe, 1 euro e 99, e c'è dato il pistacchio, 1 euro e 79, anche qui 1 euro e 79, quanto un vero pistacchio ci sarà all'interno? Non c'è dato sapere, allora, tirami su, che in realtà, all'Ital c'è sempre, non della marca deluxe, però è buono, io l'ho associato, croccante, buono, alle arachidi, alle mandorle, o alle nocciole, 1 euro e 99, 3 euro e 19, invece il tirami su, sono 500 grammi, macarons al cioccolato, 3 euro e 79, al triplo, al triplo cioccolato, wow, io li ho assaggiati, i macarons non mi sembrano niente di speciale, cioè ci vuole, ci vogliono mille anni per prepararli, un po' come, ho visto la preparazione, delle nuvole di drago, cioè quelle patatine, e ci vuole, c'è la vera preparazione, ci vuole una vita a farle, uguali i macarons, ci vuole un sacco di tempo, e poi dopo, non è che siano, cioè, preferisco altro, ecco, mi sembra un po' sopravvalutati, crumble, crumble, desert, desert, non desert, come l'ho detto io, un deserto crumble, devo spingere più sulle dubbi, crumble, desert, alla prugna, alle mele, alla marina, o alla fragola, io prenderei, quella alla prugna, perché gli altri gusti, si trovano facilmente, anche nello yogurt, così, e quel torta di mela, diciamo che è come una torta di mela, a parte che la mela, non la posso mangiare, però, diciamo che se la mangio, pochissimo, non è che muoio, eh, però, vabbè, è 1,69 euro, perché mi sembra un futuro, che non viene tanto utilizzato, la prugna è pure così, a me piace, anche la prugna secca, che fa andare in bagno, cioè, mi fa più male, la mela, che la prugna, non si sa come, grazie a colite spastica, poi, arance candite, 2,79 euro, ricoperte di cioccolato fondente, questi sono buonissimi, li ho presi, li ho mangiati un po' fa, li hanno anche da Aldi, torrone tenero, in diversi gusti, 1,69 euro, qua è frutti di bosco, amaretti, frutta esotica, mandorle nocciole, e cioccolato fondente, mi fa voglia amaretti, sì, in questo momento, crème brûlée, 1,79 euro, dessert al cioccolato, wow, 1,99 euro, mette milk, dark chocolate, dark chocolate, cioccolato fondente, e cioccolato latte, e fondente, pacche di vaniglia, bourbon, non so la pronuncia, del Madagascar, 2,99 euro, 2,99 euro, pacche, ma quante sono? Due, due pacche, a 2,99 euro, non so quanto sia, non lo compro mai, il pacello, di vaniglia, compro sempre, la vanillina in polvere, cheesecake al limone, o al cioccolato, il caramello salato, wow, questa è una novità, e vorrei assaggiarlo, tra l'altro, mi sono presa, tante altre volte, dei dolcetti, dei dessert, all'Ital, che avevano queste, ciottoline di vetro, che poi riutilizzo, 2,99 euro, allora, limone, cheesecake, limone classica, assaggerai ovviamente, il cioccolato, il caramello salato, wow, deve essere una bomba, dessert al limone, e amaretti, io ho tiramissi, 1,99 euro, anche qua, mi tengo di solito il bicchierino, poi, quindi 1,99 euro, però hai anche due bicchieri, in omaggio, che ti restano, cheesecake, e biscotti speziati, qua non c'è scritto nuovo, ma io non l'ho mai visti, al caramello cioccolato, beh, ovviamente, beh, biscotti speziati, non so, devo leggere gli ingredienti, che spezi utilizzano, però fanno voglia, poi c'è sorbetto, fragola, o mango e pension fruit, beh, ovvio, ovvio, io sceglierei, mango e pension fruit, 2,49 euro, fragola, è proprio banale, poi la fragola, mi sa di chimico, sempre, soprattutto nello yogurt, poi peluche, questo è proprio, super natalizia, peluche, con cioccolato, e caramelle gommose, da fare qualche pensierino, torrone morbido, con nocciole, e queste cose andrebbero anche bene, secondo me, verso dicembre, quando si fanno i cesti, quelli, cesto regalo, con il cibo, marron classe, 5,99 euro, biscotti speziati, 1,49 euro, frutta di martabagno, 1,49 euro, sono state in offerta, toroncini alle mandorle, 1,39 euro, poi c'è una novità, ci sono i classici, calendari dell'avvento, 1,49 euro, che mi ricordo, a tempo fa, costavano 99 centesimi, adesso, costano 1 euro, siamo a quasi 1,50 euro, vabbè, e hanno messo, questi nuovi calendari dell'avvento, con cioccolatini ripieni, questo è un classico cioccolato, la formina, forma di, tutto cioccolato, un latte, credo, questi invece, sono ripieni, 4,99 euro, e qua ci sono, dei dolcetti, con un doppio ripieno, e copertura, di cioccolato fondente, 2,19 euro, ecco, questa parte, volevo fartela, volevo mostrartela, perché ci sono delle cose, che vorrei acquistare, allora, abbiamo, le figure, decorative, di zucchero, a tema natale, 1,79 euro, belle, le decorazioni, di zucchero, 1,79 euro, belle, anche queste, c'è, principessa, albero di natale, stelline, party mix, rinne, calze, bastoncini di zucchero, e veocchi di neve, che bella, poi, decorazioni di zucchero, tema natale, 1,79 euro, stelline, di marzapane, decorazioni, di cioccolato, e decorazioni, ah, di cioccolato bianco, e di cioccolato fondente, super carine, poi, la pasta di zucchero, da modellare, a 1,79 euro, in diversi gusti, e colorazioni, preparato per, glassa, allo zucchero, 1,49 euro, poi, biscotti, decorativi, 1,79 euro, questi, voglio prenderli, ma sai fare un biscotto, con dei biscotti, decorativi, sopra, c'è, top, decorazioni di cioccolato, e abbiamo, cranella, di cereali, mix, di cereali, cereali, cioccolato, e confetti, al cacao, 1,49 euro, poi c'è, l'aroma alla vaniglia, 1,99 euro, le spezie bio, per biscotti, 1,99 euro, bio, corse di frutta, candita, cubetti, non mi piacciono, 0,79 euro, e qua, arriviamo al dunque, io voglio questo, preparato per biscotti, natalizi, c'è il mix, per i gingerbread, e, ehm, il mix, for, christmas cookies, io voglio, christmas cookies, troppo bello, e c'è anche, il tagliabiscotti, all'interno, ehm, qui abbiamo, giustamente, a forma di umino, e qui a forma di albero di Natale, che belli, 2,49 euro, sono curiosa anche di sapere cosa c'è all'interno, purtroppo, non posso girare le immagini e leggere, che cosa serve, cosa bisogna aggiungere, e cosa, appunto, c'è già all'interno, poi, ehm, non ci immaginate, 1,79 euro, mandorle pelate e macinate, 1,99 euro, la panna fresca pastorizzata, 2,19 euro, anche questo prenderei, lo staccante alimentare spray, universale, 2,99 euro, che è un po' quel puro spray, che dico io, che si vede spesso, le videoricette degli americani, adesso magari, forse, lo trovi anche al famiglia, non ho idea, però, carta da forno XXL, 1,29 euro, poi, lo zucchero a velo, 0,69, la crema pasticcera, pane angeli, e in polvere, io la prima volta che l'ho vista, non sapevo della sua esistenza, l'ho conosciuta, diciamo, in un video di Pink Whispering ASMR, dove lei faceva una torta, con un voiceover, ASMR, e, e usava appunto, questa busta, che ha dentro della polvere, lo so, credo siano gli ingredienti, li ho filizzati, e poi dopo, ci aggiungi il latte, o l'acqua, il latte, credo, ed è istantanea, 1,49 euro, gelatina in foglie, 0,99, poi ci sono queste donut, con cioccolato, latte, e le mandorle, e fanno voglia, si, fanno voglia come, poi basta, perché a me, mi interessava la roba, deluxa, però, forse, anche settimana, c'era qui, facciamo un po' di peeper sound, ah si, poi ho visto che c'è il profumo per buccato, che, vorrei provare, questo qui della Tussi, e poi c'è anche un'altra marca, che si chiama Coccolatevi, 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 2,79 euro, 2,99 euro, vorrei provarlo, poi qua c'è grande risparmio, a meno di 5 euro, e ci sono le calze, i cestini decorativi natalisti in feltro, a 2,99 euro, gli adesivi natalisti, 3D, a 2,49 euro, la catena luminosa LED, con figure in legno, 4,99 euro, la bilancia digitale da cucina, 4,99 euro, le decorazioni natalisti a LED, in ceramica e legno, 4,99 euro, le formine, o multi stampo per biscotti, di 2,49 euro, stampo in silicone per dolci, 2,99 euro, e utensili da cucina in bambù, 1,49 euro, 1,49 euro, altre natale alle porte, e decorazioni per l'albero, le palline natalizie, che strani colori comunque, abbinati così, bianche, orribili, no, non si possono avere, anche l'albero di Natale bianco, o rosa, mamma mia, che, che, non so come definirla, ma le, lasciamo perdere, il centrotavolo natalizio, per, per avvento, 8,99 euro, secondo me, fatto così, vi penso che, si può farselo benissimo, in casa da soli, cioè, sono dei bastoncini, costanti raggiungi, in giardino, prendere dei legnetti, e quella con la calda, unirli, appiccicare qualche pigna, qualche ramoscello d'albero, qualche pallina, ed è fatto, poi, prendi, due confezioni, di dessert, e, prendi i bicchieri da lì, e, è fatta, sui siti, io lo sai, candela profumata, in vasetto, con coperchio, d'ora 99, allora, non ho mai preso, candele profumate, a Lidl, a me piacciono tanto, le candele profumate, però, tante volte, le annusi, dal barattolo, e hanno, una profumazione, meravigliosa, poi, quando le accendi, non sono niente, quindi, ho sempre paura, che succeda questa cosa, e, e, quindi, le acquisto, dove so che, già le ho provate, so che lì, profumano, ecco, e, quindi, ho sempre le stesse, poi, candela profumata, in vetro, con stoppino in legno, qua, vabbè, 4,99 euro, anche qui, non so se sono buone, però, è il, mi piace, comunque, il rumore, del legno, dello stoppino in legno, perché, è paradisioco, è stupendo, poi, casetta natalizia, led in legno, 9,99 euro, 7,99 euro, la statuetta, schiaccianoci in legno, queste cose, a me non piacciono, prendono solo polvere, il gatto, le butta, e perderle, le rompe, decorazione natalizia, led in legno, decorazione natalizia, led in vetro, 9,99 euro, 6,99 euro, e poi, siccome, qua, era la, ancora, siamo ancora in ottobre, qua, da lunedì, 28 ottobre, ci sono le cose, ancora di Halloween, ma vabbè, qui c'erano, i pigiamini, iniziano già, a portarci, dei giochi, che possiamo, regalare i nostri bimbi, anche se questi personaggi, della Marvel, e Star Wars, li acquisterei anch'io, però, vabbè, le dettagli, anche, no, slime, no, ma i dinosauri, le action figure, uno o due pezzi, dei dinosauri, li vorrei anch'io, per esempio, anche i libri educativi, per bambini, però, ci sono i dinosauri, io da piccola, avevo l'ossessione per i dinosauri, collezionavo tutti i dinosauri, non so che fine abbiano fatto, quei dinosauri, ne ho avuto tantissimi, li conoscevo tutti, ma vabbè, già da lì dovevano capirlo, che io ero un po', diversa, diciamo, tra mi, allora, ci sono le bambole, c'è questo fornetto, giocattolo troppo carino, che giocherei con te, creatora, in un video, a fare, giocherei, a fare un real play, di panificio, tipo pasticceria, non lo so, bellissimo, poi, queste cuffie qua, 4 ore 99, ho capito male, e c'è, il tuo, il chi può regalare il kit, a qualche adolescente, per fare il, il tiktoker, tipo, non lo so, ci sono, le cuffie, la ring light, che poi, qui e qui, sono diverse, quindi, non lo so, perché questa, è quella piccolina, da pinzare, sul telefono, e questa, invece, è quella, che sta sul tavolo, quindi, non lo so, 4 ore 99, poi, qui vedo, che c'è un portatelefono, ma qui non c'è, quindi, dice articoli di elettronica, ma, non so, quali, quali, mostra, una ring light, però, quella, da telefono, delle cuffie, da infilare, nelle orecchie, che mi danno fastidio, e, e queste bellissime cuffie, che vorrei, andrò a vedere, perché, ok, ho appena comprato, quelle mie, a 9 euro, vabbè, le mie sono di marca, cosa erano, a Sony, le mie sono marca Sony, comunque le ho pagate 9 euro, però, non so, non sembrano male, neanche queste, bisognerebbe vedere, solo, o tra una volta, non è un buon prezzo, beh, ci sono come quelle, che io ho tutte le mie fisime, che devono essere, comode, vabbè, e senza il microfono, e col filo, perché adesso, si trovano tantissime, senza filo, bluetooth, ma io non riesco, a collegarle, ai microfoni, senza filo, e soprattutto, se hanno il filo, con il microfono, ho sempre paura, che vada a interferire, al microfono, dove devo attaccarle, quindi un po', un po' di, di pippe mie, vabbè, di pretese, diciamo così, ecco, finito, e poi qua, c'è un termoforo, per schiena e cervicale, non lo so, non mi ispira molto, una parure, copri più o meno, matrimoniale, carina, e lo set a capatoio, con pantofole, questa la vorrebbe per Natale, in microfibra, microfibra assorbente, si asciuga rapidamente, pantofole antiscivola, misura SXL, tutti i giorni, buon prezzo, questo qua, come regalo, sarebbe da fare a qualcuno, magari anche qualche, qualche boomer, io mi sento boomer, mi piacciono queste cose, da casa, ma sono una donna di altri tempi, non lo sai, vabbè, allora, il video termina qua, spero di averti rilassata, magari ti ho dato qualche idea, di qualcosa, non lo so, qualche idea, non lo so, qualche pensiero leggero, che non fa, non guasta mai, pensare a delle cose così, superflue, e, non è mica male, insomma, ogni tanto, spegnere il cervello, e pensare a cose leggere, e come sempre, ti auguro, buonanotte, buon relax, la, magia, sta, bene, arrivare, buonanotte, la, buonanotte, ciao, creatura, che,